salve a tutti ragazzi ben ritrovati con questo nuovo video riguardante l'operaio cap dunque siamo sempre qui in compagnia di matti ciao e dunque vogliamo dare i risultati diciamo dell'ultima sfida che è stata fatta beh giustamente già vedete i nomi quindi questi sono in sé i vincitori però insomma per completezza se per caso qualcuno si fosse perso qualche storia su instagram almeno ha un piccolo riassunto su come è andata vediamo se è pronto primo le percentuali si si vada vada con le percentuali i nomi già li abbiamo bene ben rinominiamo le copie della scorsa volta e vediamo le percentuali si allora la prima era io contro basta e ho vinto con l'82% la seconda copia era cobra christian e ha vinto cobra con il 71% quindi già una percentuale un po' più vicina la terza copia era nico g monster 500 e ha vinto monster con il 71% anche qui fatalità anche qui sembra molto abbastanza ravvicinato insomma non grossi distacchi comunque e poi la sfida delle sfide quella più vicina è Enrico Varte ha vinto Enrico con il 58% ah solo l'8% diciamo in più differenza è una sfida molto molto alla pari ho faticato questo anche io ammetto decidere chi tra i due sicuramente penso io che siccome Enrico fa anche bezzi qualche sporgenza in più sul petto abbia dato magari più peso o no alla votazione comunque chiudiamo questi dettagli e proseguiamo con appunto la seconda la seconda sfida del secondo girone diciamo dell'operaio cap faremo forse un video finale quindi non con la prossima sfida perché giustamente dopo restano ne restano solo solo due e vedremo chi tra i due vincitori vincitori dove andrà a sfidarsi faremo un video magari sto pensando adesso dei due vincitori dell'operaio cap che facciano male una parola su cosa ne pensano di questa vittoria rispetto agli altri non sarebbe male detto questo pronti per far girare la ruota vediamo chi è il primo indiziato solo quattro nomi qua adesso si fa presto ullala abbiamo Enrico Enrico versus Enrico versus oh scommesse qua iniziate a tirar fuori puntate eh bella sfida questa bella sfida più equilibrata se altrimenti poteva amare i capi sarebbe bello eh bella sfida questa bella sfida più equilibrata se altrimenti poteva amare i capi capitare Enrico con cobra Mari era già più equilibrata dato che Mari cobra ha una minor presenza nella serie per impegni eh lavorativi o quello che è ehm detto questo penso che venga pubblicato mh non dico subito ma eh potreste già avere le storie nel fan club ehm fmarco95 fan club su instagram eh potreste avere le storie già all'uscita del video si 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 appena esce facciamo quindi ragazzi mi raccomando votate e tenete d'occhio appunto la pagina perchè poi ci saranno già ehm verso fine settimana adesso vediamo le votazioni tra i due ne so qua tra queste due copie resta una copia vedremo chi vingerà e poi faremo il video finale per concludere anche questa gara che abbiamo voluto fare per intrattenere un po' anche ehm tutto e capire un attimo anche quali personaggi ehm erano ehm diciamo più seguiti più 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 bene ringraziamo matti ciao che lo sento già un po' nervoso per questa sfida particolare la tensione la tensione inizia a farsi sentire il ruolo di tamburi e tra 24 ore vedremo ehm chi avrà vinto commentate iscrivetevi lasciate un bel like mi raccomando storie instagram fmarco95 fan club e mettete anche like un po' di meme e di foto che ci sono e... ciao ciao ciao